E' un Natale che non puoi scusare tra le minneziate la più bella che via tu, ma Natale più Con tanto orgoglio che questa volta usciamo con un singolo, con un singolo che contiene tre brani per l'appunto il Natale sei tu, che è la canzone che insomma rappresenta la nostra città in questo periodo il periodo di Natale, il periodo forse più bello dell'anno e in più c'è Child's World che è il singolo di partenza di questo ultimo lavoro mi sta dando un sacco di soddisfazione e sono veramente molto contento In questo singolo quello che ho messo è la grande collaborazione con il coro Fra le note di Bellocchi diretto dal maestro Giorgio Caselli per la canzone Il Natale più e il coro Voci Bianche Padre Gerardo di Piacenza diretto dalla maestra Giorgia Maggi ed è stato veramente questo il più in questo lavoro a parte l'emozione di lavorare con dei ragazzi che mi hanno insegnato tantissimo e mi hanno aiutato a trasmettere quello che in realtà vorrei dire in questo lavoro cioè che in fondo vedere il mondo con gli occhi dei bambini, viverlo con gli occhi dei bambini forse è la più grande mancanza che abbiamo in questo periodo Il disco online e fisico è disponibile dal 13 dicembre e proprio ieri, il 13 dicembre, abbiamo fatto un concerto a Piacenza dove veramente il calore dei piacentini è stato eccezionale anzi, mi ha sorpreso Il 31 dicembre avremo l'onore di suonare qui al Fano Center per la precisione a degustazione dove accompagneremo la mezzanotte, festeggeremo la mezzanotte cantandovi delle canzoni io e il maestro Danilo Lovino e speriamo di divertirci tanto, ne sono assolutamente sicuro è un Natale che non puoi scordare tra le mille fiame da tu bella, vivi da tu a mangiare più